Carbone ha partito oggi il sistema di video sorveglianza nel Tg l'intervista la sindaca Paola Massi dalla quale direttamente dalla centrale operativa sita nel comando di polizia municipale di via Mazzini ha spiegato i dettagli e gli obiettivi del nuovo sistema di sorveglianza della città. Carbone ha arrestato un 55enne per evasione l'uomo da alcuni giorni agli arresti domiciliari è stato sorpreso dai carabinieri nella città di Iglesias dove stava effettuando degli acquisti oggi verrà nuovamente processato. Salviamo e rilanciamo il geoparco della Sardegna a scendere in campo per questo scopo i grandi ideatori e propositori dello straordinario strumento di valorizzazione dell'archeologia industriale e del patrimonio naturalistico dell'isola. Giovedì arriva a Landini e venerdì il ricordo di Sergio Usai. Due importanti iniziative coinvolgeranno la CGL territoriale. In arrivo domani in Sardegna è segretario generale per la prima visita ufficiale nella nuova veste. Venerdì invece alla Carbo Sulcis verrà commemorata la figura del compianto Sergio Usai a 13 anni dalla sua scomparsa. Buon mercoledì 23 ottobre 2019 a tutti i telespettatori di Canale 40, ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. È entrato ufficialmente in funzione questa mattina a Carbonia il sistema di videosorveglianza che vigilerà su tutta la città. Nel servizio che vi proponiamo, direttamente dalla centrale operativa della Polizia Urbana, l'intervista alla sindaca Paola Massida che ha espresso grande soddisfazione per questo risultato. Vediamo insieme. Ci troviamo nella sala della centrale operativa del comando di pulizia municipale di Carbonia nella quale si monitorano tutte le telecamere che oggi sono state accese con la via del sistema di videosorveglianza in tutta la città. Un'innovazione tecnologica importante, una richiesta pressante che negli anni si è elevata da tutti i cittadini per garantire maggiore sicurezza alla città di Carbonia, per prevenire tutti quegli atti di criminalità, di poco rispetto per il patrimonio pubblico e per il decoro urbano. Sì, da Paola Massida possiamo dire che oggi è stato fatto un passo in avanti importante per la città di Carbonia, per tutta la comunità. È stato fatto un grosso passo in avanti sia dal punto di vista del sforzo amministrativo e tecnico richiesto che per un comune è notevole, infatti è una procedura che si è protratta da un bando che era partito nel 2014 e abbiamo concluso adesso proprio per la necessità di alcuni passaggi tecnici oltre che normativi perché ricordiamo che questo sistema di videosorveglianza è retto da un regolamento per la protezione dei dati, qua infatti siamo nella centrale operativa a telecamere spente senza ancora aver avviato il registro per la registrazione appunto di chi entra, dei dati che sono stati presi proprio perché sarà una centrale e quindi c'è una disciplina che tutela i dati della privacy, quindi soltanto il responsabile e gli incaricati potranno accedere e visionare le telecamere. Come funzionerà questo sistema? Ci saranno dei responsabili che monitoreranno tutta la città? Chiaramente poi questo sistema di videosorveglianza funzionerà da deterrente? Certamente è un aiuto perché funzioni da deterrente, così come i nostri operatori, i nostri agenti non possono essere in ogni parte e reprimere in questo modo o prevenire gli atti di vandalismo, gli illeciti eccetera, vale anche per le videocamere. È un grosso aiuto ma ritengo che si debba sempre puntare su quelle azioni materiali di cultura del cittadino che deve capire che il patrimonio è un patrimonio pubblico e che non vuol dire di nessuno ma di ciascuno, di tutti e di ciascuno. Quindi è importante portare avanti anche queste azioni di sensibilizzazione di quello che è il nostro patrimonio. Le videocamere sono un aiuto per prevenire tutti gli illeciti, tutti i piccoli atti di vandalismo, di teppismo ma anche un aiuto per la circolazione e soprattutto per la circolazione stradale. Abbiamo delle telecamere che appunto sono proprio delle telecamere diverse e speciali che servono a immagazzinare il dato delle targhe. Quindi è un grosso aiuto che verrà implementato anche per quanto riguarda i reati ambientali. Attualmente è attiva una telecamera della devizia per gli illeciti sulla cattiva abitudine di buttare i sacchetti rifiuti dappertutto o di usare le buste nere o di buttare l'immondezza fuori degli orari regolamentati. E questo è un grosso aiuto. Ma i cittadini vorremmo non reprimerli ma educarli a una cittadinanza consapevole. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. I carabinieri della Compagnia di Carboni hanno arrestato un uomo ieri per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. PP, queste le sue iniziali, verrà processato oggi al Tribunale di Cagliari. Manolo Murid. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Carbonia hanno arrestato ieri in flagranza di reato PP55N, già noto nelle forze dell'ordine, per il reato di evasione. L'uomo era stato recentemente arrestato dai militari nelle settimane scorse per essere stato trovato in possesso di un'arma clandestina con matricola brasa. Da alcuni giorni era uscito dal carcere ed era stato confinato agli arresti domiciliari. Mentre nella giornata di ieri era stato autorizzato uscire di casa unicamente per recarsi al Tribunale di Cagliari e partecipare all'udienza del processo che lo vedeva coinvolto. Terminata la stessa però, invece di rientrare subito a Carbonia nella sua abitazione, il 55enne ha deciso di recarsi Iglesias a compiere degli acquisti. Fino a quando non è stato riconosciuto da un carabiniere che lo ha pedinato e nel frattempo ha avvisato il proprio comando e chiesto il supporto di altri colleghi. Al loro arrivo l'uomo è stato bloccato e arrestato e dopo essere stato condotto in caserma è stato nuovamente confinato agli arresti domiciliari. Nella giornata di oggi verrà processato stavolta per il reato di evasione. Continuiamo con la cronaca. Una madre e un figlio sono stati denunciati ieri dai carabinieri dalla stazione di Porto Scuso per i reati di furto e possesso di sostanze stupefacenti. Vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. I carabinieri della stazione di Porto Scuso hanno deferito una giornata di ieri all'autorità giudiziaria due persone, una madre a 43enne e il proprio figlio di 22 anni per i reati di furto e possesso di sostanze stupefacenti. L'indagine, partita dopo una denuncia di furto di un telefono cellulare, ha portato i militari a condurre una perquisizione domiciliare a casa dei due nella piazza Friuli a Porto Scuso nella quale è stato effettivamente ritrovato lo smartphone e successivamente sono stati rinvenuti ben 30 grammi di marijuana di proprietà, si è scoperto dopo, della donna, peraltro già nota alle forze dell'ordine per reati specifici. A quel punto i due SE e FA, questi gli iniziali, sono stati rispettivamente denunciati, il figlio per il furto del telefono e la madre per il possesso di droga. Bentornati in studio. Ieri notte un grosso incendio ha colpito la campagna di punte dretto nei pressi di Mazzacara. Sono stati parecchi gli etari di territorio devastati dalle fiamme, colpita anche la pinetta della località frequentata da pescatori e da numerosissimi amanti del kitesurfing provenienti da tutta Europa. Per contenere la furia delle fiamme alimentate dal forte vento sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Carbonia e di Iglesias, la forestale, la protezione civile con i suoi volontari del Ser Carbonia e i carabinieri. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e ferita, ma sono ingenti i danni per il patrimonio naturalistico del luogo. Cambiamo argomento. I ideatori, propositori artefici dell'istituzione del Parco Geo Minerario hanno deciso di scendere nuovamente in campo per salvare e difendere lo straordinario strumento di valorizzazione del patrimonio archeologico industriale e naturalistico sardo, alla luce della recente esclusione dalla rete dei parchi dell'UNESCO. In questo servizio l'intervista a Gian Piero Pina tra i grandi sostenitori del Geoparco. Vediamo. Siamo in compagnia di Gian Piero Pina. Gian Piero Pina, negli anni passati, è stato uno dei grandi artefici di quella lotta che portò all'istituzione del Geoparco. Una lotta importantissima che durò mesi e mesi, anche con sacrifici, all'interno della miniera, per chiedere l'istituzione di uno straordinario strumento che purtroppo oggi però è stato messo in qualche modo in discussione. E quindi tu Gian Piero, insieme a tante altre persone, a tante altre persone che contribuirono a ideare, a rilanciare questa idea importante di creare uno strumento in grado di valorizzare tutto il patrimonio archeologico industriale del territorio e dell'isola, avete deciso di scendere nuovamente in campo perché il Geoparco è una ricchezza che appartiene a tutti i sardi e deve essere per forza salvato e rilanciato. Sì, noi non è che dobbiamo scendere in campo ancora, non abbiamo mai abbandonato il campo per sollecitare l'attuazione degli impegni del Parco Geominerario. Diciamo che è stata questa pesante bocciatura dell'UNESCO che ha costretto a ritornare, a organizzarci per capire come questo strumento sul quale tutti hanno puntato e tutti ancora credono che sia importantissimo per la riconversione economica e sociale non solo del nostro territorio ma di tutte le aree minerali della Sardegna, possa essere arrivata a questo punto quando dall'UNESCO era giudicato il Parco Geominerario più bello del mondo. Allora la riflessione che bisogna fare, a mio avviso, deve prendere soltanto spunto dall'UNESCO perché questa bocciatura è semplicemente la conseguenza del fatto che il Parco non ha funzionato e non siamo stati capaci di farlo funzionare. Avete convocato gli stati generali del Geoparco? Di fronte a questa situazione ci siamo incontrati con gli ideatori, i costruttori e diciamo anche i sollecitatori, nel senso che molti di noi siamo stati, dopo aver fatto un anno sottoterra per far istituire il Parco, siamo stati 400 giorni a Villa Devoto per sollecitare il funzionamento. E quindi insomma con tutte queste persone, anche in memoria dei padri nobili del Parco Geominerario che sono appunto persone di grande valore rispetto alle quali abbiamo una grande ammirazione, grande ammirazione ancora dal professor Lilliu, l'ingegnere del Bono, l'ingegnere Boi, Franco Tode, diciamo dall'accademico dei lincei che era il professor Giovanni Lilliu al semplice ma grande minatore che è Paolo Vargiù, per esempio che in pensione lui è stato con noi a difendere nella lotta di Pozzosella. Oppure Silvestro Mocci che ha passato 400 giorni con noi in tenda a Villa Devoto, quindi sono persone diciamo così semplici ma importantissime che hanno fatto la storia e che sono stati lungimirati. Quindi anche in memoria loro noi abbiamo detto rivediamoci tutti, chiamiamo tutti attorno a un tavolo per riflettere su questa situazione. È stato molto importante intanto il fatto che la comunità del Parco ha accolto positivamente questo nostro appello. il 5 di novembre assieme a tutti quelli che partecipavano negli Stati Generali è stato convocato proprio la comunità del Parco e quindi insomma speriamo di metterci tutti a torno a un tavolo per capire quali sono gli errori che abbiamo fatto, quali sono gli ostacoli che hanno impedito il funzionamento del Parco. Articolo 1, liberi e uguali, ha preso una durissima posizione nei confronti della maggioranza regionale per la possibile abolizione del Reis. L'importante strumento di contrasto alle povertà assolute era stato introdotto nella scorsa legislatura regionale. Vediamo dunque l'intervista che abbiamo realizzato con Luca Pizzuto, segretario regionale di Articolo 1, liberi ed uguali. Siamo in compagnia di Luca Pizzuto, segretario regionale di Articolo 1, liberi ed uguali. Nella giornata di ieri avete denunciato il rischio che il Reis, il provvedimento di contrasto alla povertà che era stato introdotto nella scorsa legislatura regionale, venga eliminato dall'attuale maggioranza che governa la regione. Perché questo? Io credo che questa maggioranza e questo governo non abbiano nessuna sensibilità sulle tematiche che riguardano la povertà. Lo dimostra il fatto che la delibera che dovrebbe avviare i progetti del Reis di quest'anno non sia stata ancora approvata, ormai siamo a novembre e ad agosto è stato approvato un dispositivo legislativo che di fatto elimina i soldi per quei comuni che non spendono nel 2019. Essendo la delibera non ancora pubblicata e quindi non avendo i comuni la possibilità di spendere, è chiaro che il prossimo anno se stai alla legge non avrai più le risorse. E questo è un fatto gravissimo che dimostra la sensibilità e l'interesse che Solinas e compagnia hanno nei confronti dei più deboli. Per noi è inaccettabile daremo battaglia su tutti i fronti perché per noi resta una conquista a prescindere da altri strumenti nazionali che ci sono. Uno strumento ossardo è tale da rimanere. Uno strumento che si può integrare con gli altri strumenti recentemente introdotti per il contrasto alla povertà? È una scelta che si fa a livello regionale. La regione ha scelto di non integrarli. Noi all'epoca scegliamo di integrarli con lo strumento che c'era allora, il REI. Arrivamo a coprire 21 famiglie in Sardegna. Oggi non sono in grado di dirti perché non ci sono dati e non abbiamo nemmeno i dati di chi, come, si sta prendendo il reddito di cittadinanza. Quindi è difficile fare un'analisi su questo. Anche se il tema della povertà è forte, Save the Children, nei propri giorni scorsi, ha emanato uno studio secondo il quale 35 milioni sardi su 100 vivono in una condizione di povertà. Sì, è un dato gravissimo. Infatti per noi è stata la priorità. La sinistra nel governo Pigliaro per cosa si era battuto? Reis e borse di studio. Perché riteniamo che quelle siano le chiavi per cercare di cambiare lo sviluppo della nostra isola. Si stanno smantellando le borse di studio e si sta ammazzando il Reis. Questo è un dato su cui tutti dovrebbero riflettere. Quello che inizia domani sarà un fine settimana importantissimo per la CGL territoriale e Sarda. Da domani infatti arriverà nell'isola il segretario generale Maurizio Landini. E' venerdì in una cerimonia organizzata all'interno della Carbosulci. Se verrà commemorata la figura del compianto sindacalista Sergio Usai. A illustrare in questo servizio i dettagli di queste iniziative è Antonello Congiu, segretario della Camera del Lavoro della Sardegna sud-occidentale. Sentiamo insieme. Questa mattina ci troviamo alla Camera del Lavoro di Carbonia in compagnia del segretario generale della CGL della Sardegna sud-occidentale, Antonello Congiu. Questa è una settimana importante per la CGL. Domani approderà in Sardegna Landini, nella nuova veste di segretario generale, la prima visita ufficiale in questa veste. E' venerdì si terrà un importante momento di ricordo e commemorazione sulla figura del compianto Sergio Usai. Sì, certo, per noi sono due avvenimenti che sono molto importanti. Come dicevi, giustamente, venerdì avremo un'importante commemorazione del compianto Sergio Usai. Una commemorazione che ci permetterà di parlare di Sergio come uomo, come sindacalista, come persona che mi piace definire persona libera. Sono momenti importanti. A questa commemorazione avremo diversi ospiti, che saranno le persone che con lui hanno affrontato i temi sia sindacali, sia quelli lavorativi. Avremo l'onore di avere tra di noi la partecipazione di Sergio Cofferati. che era segretario generale della CGL nazionale nel periodo in cui Sergio è stato segretario della Camera del Lavoro del Sulcesiglesiente, cioè dal 1994 al 2002. E questa sarà l'occasione per commemorare Sergio come merita per essere stato quel grande condottiero di questa Camera del Lavoro. Mentre domani a Pula, nel teatro di Pula, avremo una grande manifestazione, un'assemblea dei quadri delegati che vedrà partecipare il nostro segretario nazionale, Maurizio Landini. Questa noi speriamo che sia l'occasione per rilanciare le nostre forti preoccupazioni dei temi generali che affliggono il nostro territorio, la nostra regione, ma soprattutto per rilanciare un tema che c'è molto caro, che è il tema dell'energia, della gestione del phase 8 per l'uscita dell'utilizzo del carbone per la creazione dell'energia, che ci sta molto preoccupando, viste anche le esternazioni del Presidente del Consiglio all'uscita della Prefettura di Cagliari in occasione della sua venuta in Sardegna. Il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che la protezione civile della regione Sardegna ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre, nella fascia oraria dalle 15 fino alla mezzanotte. È prevista l'alerta gialla, ovvero la criticità ordinaria per temporali. Siamo in chiusura giovedì 24 ottobre. Per festeggiare i 20 anni di attività dell'Associazione Sardegna Solidale verrà collocata a Carbonia una ceramica presso l'ex Tribunale di Via 18 Dicembre. Alla cerimonia, il cui inizio è previsto per le ore 11.30, parteciperanno il Presidente Giampiero Farru e le autorità civili e religiose della città. Questa era l'ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani e al nostro telegiornale Lingua Sarda Noase in Curzu. Vi ringrazio per l'attenzione e per averci seguito e vi do l'appuntamento per le prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci. Grazie.